Oggi si scrive Atalanta ma si legge Italia, perché comunque vada, molla mia. Dallo stadio Danuzzi in Lisbona, Atalanta-Paris St. Germain, sono i quarti di finale di Champions League. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergome. Troiler sulla sinistra, dentro Sabana, uno contro due, dentro per il Papi, l'aria di vigore, Papu! Prima, cambia occasione per l'Atalanta. Attenzione, Neymar da solo, uno contro uno, Neymar in altre virgolette, Neymar ancora sul fondo! L'ha divorato Neymar! Uno contro uno di Papu, il pallone per Adebur, è buono, Adebur di testa! Salvataggio di Keiland Navas! Arriva il pallone, Tergin City, che non trova la porta, mancora una volta di testa, la prende all'Atalanta. C'è Sabana lì davanti, controllo non facile, uno due che non si chiude, poi la parla passa! Che stai facendo, Jack? Che stai facendo? Johnny! E ti sembra il momento? Sempre il momento! Partita finita! Io a destra, Johnny! Eccola, Frankie culo di colpa! Johnny, accosta! Frankie! Frankie! Allora, Frankie, com'è a botta! Salve ragazzi! Vieni che ti diamo un passaggio in macchina, va! Grazie, tanto io sto qua, sono arrivato, grazie! Ti ho detto di venire in macchina, Frankie! No, grazie Jack, veramente, tanto sono arrivato! Parlo una volta sola, se ti dico di salire in macchina, sali in macchina! Ringrazio Jack per il passaggio! Grazie, Jack! Allo stadio Daluzzi in Lisbona, Atalanta-Paris-Saint-Germain, sono i quarti di finale di Champions League! Buonasera! Ragazzi, che così sia, fatemi scendere, veramente, non ho fatto niente, vi giuro! Stai tranquillo, stai tranquillo, non può succedere niente, sei tranquillo! Il respiro, che non si... Ma fatemi scendere! Ragazzi, ma non ho fatto niente, vi giuro, non ho fatto niente! Non non ho fatto niente, ti devi preoccupare, hai capito? Tu Non ho fatto niente, non ti preoccupare, hai capito? Si libera, la mette in mezzo, posizione considerata regolare, e c'è il pareggio del pari, e c'è il pareggio del pari. Ma come? Ragazzi, ma perché fai così? Dai che peccato, che peccato, che peccato, Frankie! Corri, e non voltarti indietro. Ora vai, Frankie. E finisce qui. L'anno prossimo, c'è grandissimo dispiacere, perché si è arrivati a un centimetro, grandissimo dispiacere. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS